Buondi a tutti gli amici di Doppia Frizione Oggi Ciao amici Chi sei? Io sono Camilla Ok, Camilla Dietro abbiamo la carri perché si è presa a bene E andremo a farci un giro molto sciagli Per le vie di nuovo del biegese Quindi direi che possiamo iniziare A 10.000 like la reaction sul trattore L'ultrattore No Zanzara vai via Non ti voglio Mi arriva l'aria su capelli Io bestemmio Eh un po' si direi sai Direi che un po' si Madonna quanta polvere Ragazzi è Cosa? Cosa sta succedendo qua? Non lo so Accendiamo la ventola Per Per Signore ma con chi cazzo devo fare i video io? Cioè Ho chiamato me e io ho chiamato Poi te lo facciamo fare alla Prama La prima cosa Lo posso Sì te dovresti Fare la catena Dovresti continuare la catena Quindi dovrei Dovrei dire un nome Francesca La prossima Sappi lo avrà Che ci sei la prossima Dovresti Dovrei farmi vedere Allora Qua si dice A Bizzata No Non ho avvisato A mezzo salvato 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 Però c'è Guarda i capelli A carri Io mi scazzo Non sapevo che dovevo legare C'è qualche problema Di sottofondo Nel vero senso della parola Perché C'è una persona dietro Non ho mai portato una persona dietro In vita mia Va bene Il problema è che Sono diavenuto In macchina con te Ma non andando Infatti Un barri Troavam Rangers Ho Ha 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 Stai È Ha ha Che 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 Salve signori, salve! Sì, sì, dai, vai, prova! Challenge in macchina! Challenge in macchina, ragazzi capelli! Dove c'hai vista la macchina? Mi è arrivato un tuo cappello in faccia, va bene, sì, è probabile, no, non so qualcosa, mi è arrivato nell'occhio direttamente, guarda che sottile, no, 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 Giorgio è vero, ma bene, censura? Come noi fanno le castagne! Sì! Cioè tu riesci a pensare a quello? Sì! ci stiamo persi dai qua andiamo con calma perché è un centro abitato è un centro abitato era una spiammata se vuoi sapere allora fa tre secondi, terzi, quarto video si scoppietta vai ma mi parla un po' c'è Omar lo è rimasto tutto il tempo così non ha detto niente abbiamo tirato un'epa e ha detto oh bastardo non me lo aspettavo basta è coraggioso non mi capisco di scontrollare perché se vanno se sono bestemmi è vero che sono in terza non sto neanche tirando quando hai freni? credo mai in questo momento senti che buon odore è questo l'odore questo è il profumo che mi piace di affare è che questa è una strada che può traficare ma non è vero no no dai ciao ciao prima c'era un camera è volato è volato è volato è volato è volato va bene è questo di tutto sta riguardo lo so è quello che adesso non ci va mai è volato erba è meglio o no di guardando? è meglio è bene salve cinghisti cosa? mi sento qui da retta dietro è abbastanza doloroso è stato bellissimo non ho più saliva però non hai più saliva? no dai c'è il trottorista di offane che palla un'altra volta un'altra volta un'altra volta con calma abbiamo fatto un girato più cordo perché c'ho il gopro che stanno morendo perché non l'ho caricato ieri ed è una di seguito l'altro sto video salutate ciao ok quindi finito qua la gente muore nel mentre va bene si io muoio cami senti che non ti senti più le gambe alla prossima video ragazzi mi senti più le gambe mi senti più le gambe